Buonasera per inquadrare il nostro ospite che è un celebre conduttore radiofonico e televisivo emiliano e che da anni si è trasferito anche sul web dove noi lo peschiamo con un collegamento a distanza. Io vi faccio qualche nome e tenetevi forte perché i nomi sono Cindy Loper, Luciano Pavarotti, Robert Plant, Bob Marley e mi viene in mente anche Paul McCartney e poi Mick Jagger, Whitney Houston, insomma davvero sono tantissimi, mettiamoci anche Vasco Rossi, sono tutti nomi che sono passati grazie alle amicizie coltivate personalmente dal nostro ospite e sono passati al suo microfono e nei suoi programmi. Concedetemi una piccola nota personale, io sono cresciuto guardando per esempio Roxy Bar, c'è tanta musica e come nella vita di Gabriele Anzaloni. Voi direte chi è Gabriele Anzaloni? È Red Ronny. Red, ciao buonasera. Ciao, ciao, ciao. Direi un collegamento perfetto. Red, dove sei? Io vedo uno spicchio di casa tua. Sono a casa, sono a casa e comunque ho una bella finestra che dà sulla campagna, ho una cagnolina e quindi posso permettermi il lusso di andare fuori, camminare quando voglio e questa cosa sfortunatamente che è successa mi permette anche di riposarmi un po' e di concedermi dei lussi come fare una piccola penichella per esempio ogni tanto. Ecco, una penichella che tu fai di solito al pomeriggio, prima di cena, magari verso le sette a quest'ora, no? No, io sono sconfusionato. Cioè quando sento il bisogno di riposarmi mi butto mezz'ora sul letto. Quindi non ho orari. Come non ho orari quando faccio la notte, soprattutto in questo periodo, posso fare le tre, le quattro. Soprattutto poi, delle volte ricevono le telefonate, ci parliamo con Vittorio Sigalbi alle due di notte, con Morgan ancora peggio perché arriva verso le quattro alle cinque. E quindi vabbè dai, noi ti rubiamo mezz'ora. Red, devi scegliere una pedina e poi sarò io a muoverla e sarò io a lanciare il dado. Mi spiace non lo possa fare tu fisicamente ma... Quali sono le pedine? Le pedine sono l'amore, poi abbiamo il matto, l'eremita, un po'eremita lo sai in questo periodo, gioco forza, la morte, che è una morte dotata di un violino, cioè non è la fine di qualcosa ma è un superamento, e poi abbiamo l'imperatore e abbiamo la fortuna. Da chi ti fai accompagnare oggi, Red? L'eremita. Ecco. Anche perché credo che tutti sceglieranno l'amore, no? È l'amore o il matto, guarda, il matto sono le più... Quelle che è meno scelta è l'imperatore perché sembra un atto di vanità scegliere una pedina, la pedina dell'imperatore, anche se è una persona autorevole, autoritaria, che ha delle grosse responsabilità. Comunque l'eremita perché, al di là adesso di questo confinamento da quarantena? Perché io sono un'eremita, nel senso che io sono sfasato, non avanti. Tutti mi dicono, tu sei avanti, tu queste cose le dicevi dieci anni fa, le facevi ad esempio adesso internet, io ho indicato a fare nel 2011, eccetera. Secondo me è essere sfasati. Essere sfasati, cioè non essere nel tempo. Io sostengo sempre che è molto meglio arrivare ultimi che arrivare primi. Perché tu arrivi prima, ti fai il raggo, tra i rovi, eccetera, trovi un posto bello. Segnali che c'è un posto bello, arrivano le truppe cammellate, lo invadono e te ne vai da un'altra parte. Quello che arriva ultimo, qualcosa da mangiare lo trova sempre, o qualche resto, qualcosa. Tu invece costruisci tutto. Quindi l'eremita, io mi sento molto eremita, da bambino abitavo in campagna da solo. Sono abituato a essere solo e avere persone che non comprendono quello che sto facendo. Mi sorprende un po' questa cosa della solitudine, perché tu hai sempre cercato anche nelle tue trasmissioni di mischiare le carte, di desacralizzare gli artisti, portandoli a portata del pubblico. Vabbè, dai, allora, io ho il dado, lo lancio, faccio un 5 e la prima casella che ti capita, Red, sai qual è? Uno, due, tre, quattro, cinque. Ai, ai, ai. La casella proibita è la casella delle difficoltà. Voglio dire, arrivare ultimi, si può intendere che poi in un altro posto si sarà primi, e tu hai primeggiato molto, però avrai avuto anche momenti di difficoltà, perché la carriera è questo, la carriera in Italia, nella televisione italiana, sono luci, però ogni tanto i riflettori si spengono. Come si vive allora, quando si spengono i riflettori e c'è meno lavoro? Ma nel momento delle difficoltà, devo dire che mi sono cercate tutte io le difficoltà, perché nel momento stesso, ad esempio, in cui io sono diventato vegetariano, ho deciso di cambiare completamente la mia alimentazione, ho contestualmente deciso di non fare più pubblicità, a parte che non l'avevo mai fatta, ma siccome non si poteva più prescindere dal fare pubblicità nei programmi televisivi, ho deciso di non pubblicizzare prodotti alla dannosi e alla salute. Questo ha significato che io sono diventato, per i centri media che gestiscono la pubblicità delle aziende, ingestibile. Cioè, quando mi chiamava, che mi chiamò Mediaset e mi disse quanti soldi volevo per pubblicizzare una caramella, a votare la voce, io dissi, mandatemi l'analisi chimica di quella caramella, e loro gli ho detto, scusa, ma ti abbiamo chiesto quanti soldi vuoi, cosa c'è? No, perché se è dannosa la salute non la pubblicizzo. O quando arrivarono da me e volevano pubblicizzare dell'alcol nel mio Roxy Bar, io dissi di no, perché volevano, parole loro, penetrare nel mondo delle ragazze che non bevevano alcol e avevano fabbricato un alcol colorato alla frutta e dolce che piaceva alle ragazze. Dissi di no, e dissi di no a un miliardo all'ora, che erano tanti soldi, e quindi questo ti crea delle difficoltà. Quando Berlusconi mi chiamò, perché io avevo fatto una rotonda sul mare, che aveva fatto 7 milioni di audience, e dovevo smettere di fare Bababaluma, che era poi Bibopalula, e voleva fare solo quelli, io dissi di no, e lui disse che non deve più lavorare con noi. Cioè, le difficoltà me le sono sempre cercate, perché ho fatto delle scelte etiche che non erano tollerabili. Ho capito, quindi Berlusconi è stato uno dei tuoi datori di lavoro, ma ce ne sono stati altri, perché tu hai lavorato per le trasmissioni che stavano fra degli inserti pubblicitari. Prima tu hai iniziato in quelle, diciamo, situazioni mediatiche diverse. Io penso a Telezola, no? Sei diventato a Telezola un punto di riferimento comunque della musica, dei musicisti locali. Ancora prima, le radio libere. Lì potevi essere più libero, cioè si è più liberi quando si è meno famosi, all'inizio della tua carriera. No, devo dirti che io sono sempre stato libero, perché me ne sono sempre fregato delle cose nelle quali io non mi identificavo. Cioè, nel senso, ero libero con le prime radio libere, feci la prima radio libere di Bologna, vinsi anche il premio come miglior programma in Italia, nel 1976 a Radio Estate Giovane, dove previato Vascurosi come miglior radio, punto radio. Quindi dall'inizio io sono sempre stato libero. Sai, la libertà è una parola che viene usata, noi non siamo liberi. Però diciamo che nell'ambito dei paletti che mi arrivano dati, io mantenevo l'ampia libertà. Cioè, mi ricordo, per esempio, quando andai a Rai 1 a fare Domeniken con la Raffaella Carrà, io dissi, ditemi gli argomenti che non posso toccare. E allora Brando Giordani, che era responsabile del programma, disse, ah, questo provinciale che arriva dalla campagna e crede che noi facciamo censura. Io dissi, ok, posso parlare di religione? No, di religione no. Ecco allora. Gli argomenti che non posso toccare, io non li tocco, capito? Ok, dai, tocchiamo un'altra casella. Red, facendo, vai forte, cioè, vado forte, non so se sei tu che mi influenzi, ma dopo un cinque facciamo addirittura un sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Beh, siamo sullo stadio. Io non so i primi concerti, tu dove li hai visti, e la musica poi come è entrata a far parte della tua vita, concretamente, ma spesso associamo lo stadio ai grandi concerti. Tu hai un ricordo particolare al riguardo? Dunque, io ho un ricordo particolare la prima volta che mio papà mi portò allo stadio. Devi sapere che io vedevo le partite in bianco e nero, quindi per me andare a uno stadio e vedere i colori fu una roba pazzesca, fu un impatto pazzesco. Andammo a vedere Bologna-Milan, dove peraltro si ruppe la gamba mora, che era un'ala destra fantastica. Io da piccolo ero tifoso del Milan. Ma vedere le maglie con i colori, vedere l'erba verde, vedere i colori degli striscioni, fu una roba fantastica. Quindi il mio primo ricordo dello stadio è quello. Poi chiaramente ci sono stati altri stadi importanti che ho fatto, ho fatto Bob Marley nell'80, i Rolling Stone, ho fatto, e poi tutti i concerti di Vasco Rossi. Lo stadio è troppo grande per me, non è una dimensione che io amo nei concerti, amo dimensioni più piccole, molto più piccole. Negli studi mi piacciono quelli piccoli. Hai citato tuo padre, ma la musica come è entrata a far parte della tua vita? Perché poi tu hai fatto una formazione da ragioniere, e per noi il ragioniere per Antonomasia è il ragioniere Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio, ne hai ironizzato benissimo, dapprima in letteratura e poi col cinema, hai avuto quella formazione lì. Tuo padre ti porta allo stadio, tu fai il ragioniere, e la musica come è entrata a far parte della tua vita? La musica è entrata perché io abitavo in campagna, e per me ascoltare la musica ero da solo, non avevo amici, e per me ascoltare la musica è stato qualcosa di fantastico. Dopodiché diventai amico anche di Maurizio Montanari, figlio di Montarbo, le amplificazioni, e allora con lui, lui mi diede delle casse, fece un impianto molto potente, tant'è vero che io abitavo a un chilometro e mezzo dal paese, io accendevo la musica al massimo, e i miei amici dal paese sentivano che avevo acceso la musica, e dopo un po' vedevo tutti i motorini che arrivavano le luci, e venivano a casa mia a ascoltare la musica. La musica è qualcosa di magico, la musica ha accompagnato tutta la mia vita, la musica è l'arte, fra l'altro io sto vedendo che ci sono dei quadri bellissimi, chi ha fatto quei quadri lì? Insomma degli acquarelli. Allora la grafica, perché noi abbiamo questa bella cosa che in televisione, che è il mondo del digitale, lavoriamo ancora artigianalmente, la grafica si chiama Raffaella Ferloni, e lei disegna ad acquarello, disegna questi sfondi che poi vengono proiettati, quindi assume una dimensione in grande, si va dalla piccola dimensione al grande, e queste sono tutte interpretazioni, lei si è lasciata ispirare alla tua vita, leggendo qua e là, no? Perché tu ti sei buttato anche nell'arte, con l'action painting, per esempio, il William Condom, hai trattato questo artista, e altre cose, quindi non solo musica nella tua vita. Ma sai, tu ti ricordi di Roxy Bar? Roxy Bar io fece il primo esperimento, dove avvenivano dei pittori e dipingevano, sia Roxy Bar che Elpe, durante il programma dipingevano, perché io amo l'arte, credo che l'arte e la musica siano le uniche cose che possano salvare il mondo, tant'è vero che, purtroppo, arte e musica non sono amate dai politici, che non stanno certo salvando il mondo. Noi siamo, ecco, i politici, non stanno salvando il mondo, però tu nel 92 hai risposto a una chiamata di Craxi, nel 92, poco prima della crisi della Prima Repubblica, Tangentopoli, tutte queste storie. Tu eri un anarchico, perché hai scelto di, non dico servire, perché forse è la parola sbagliata, o hai creduto di poter fare politica attiva, tanto che ti sei presentato per le elezioni per andare alla Camera dei Deputati, poi non ce l'hai fatta, ma un'altra storia. No, ma intanto i primi che arrivarono a primi la candidatura fu il Partito Comunista, dopodiché arrivò Formigoni per la democrazia cristiana, dopodiché arrivò Enrico Boselli per il Partito Socialista Italiano. Quelli che mi fecero discorsi più intelligenti fu Boselli, che stimavo moltissimo perché era anche stato il Presidente e il Governatore della mia Regione. C'era già stato Tangentopoli e siccome io vedevo già allora, infatti se tu vedi, c'è su internet un mio intervento da Funari, se tu vedi, io ero già oltre, ero già anche sfasato, io parlavo già di trasversalità, tant'è vero che quando incontrai Craxi lui vide che nel mio giornale Bibo a Polulla io avevo intervistato Gino Paoli e Formigoni e lui mi disse ma scusa, ma perché dai spazio agli avversari? Dico, non sono avversari. Visto che voi mi avete detto che il mio compito è quello di cioè io posso avere l'opportunità di trovare spazio per i ragazzi, occuparmi dei ragazzi, della musica, della cultura dei giovani, io ho già fatto alleanze trasversali perché il futuro è la trasversalità, non è la piramide. Quindi io mi sono già alleato con Gino Paoli che è del Partito Comunista con Formigoni che è della democrazia cristiana, quindi quando io presento una legge che riguarda i ragazzi ho l'appoggio di altri due partiti e lui rimase molto colpito da questa corte, davvero che stiate a parlare con me tantissimo. Poi chiaramente io fui eletto, perché attenzione, io fui eletto, ma il mio stesso partito, le gelosie interne di questo outsider che arriva, fece così che mi cancellarono i voti come Redronni, lasciandomi solo quelli come Ansoni e Gabriele. Io ho preso 25.000 preferenze come Ansoni e Gabriele. Io stesso ho votato Redronni, quindi io stesso non mi sono votato perché mi fece cancellare quei voti. Dopodiché Intini mi chiama a Roma e dice fai ricorso al TAR e vinci e vieni in Parlamento e dici no. Sì, vabbè, infatti, poi sono giochi politici. Lasciamo lo stadio, Red, che siamo già a metà intervista, perché tu vai come un treno. No, questa volta facciamo un uno, uno, però un piccolo passo che ci porta sai dove? Dallo stadio ai sogni, che è una bella casella, quella dei sogni. Allora tu, nella cerchia bolognese, all'inizio avrai conosciuto dei grandi talenti, come Lucio Dalla, mi viene in mente, Vascorossi, qui hai un'amicizia ormai decennale e poi Guccini, che ha qualche anno più di te. E poi, io ho già citato dei grandi nomi internazionali, ma essendo sulla casella dei sogni io vorrei chiederti ma chi ti ha elettrizzato di più? Chi ha intercettato meglio i tuoi sogni? Gli artisti della tua cerchia regionale, della tua prossimità anche affettiva e geografica oppure quei grandi nomi internazionali riconosciuti a livello mondiale? Tanto per me già, visto che parli di sogni, devo dirti che io non ho mai sognato di incontrare quei miei idoli. Cioè, io quando vedevo Jimi Hendrix nel film Woodstock che suonava questa chitarra bianca e sapevo che era già morto nel frattempo, con l'inno americano, che è il Jimiè del mio idolo, non avrei mai immaginato che un giorno avrei posseduto quella chitarra che vedevo sullo schermo. Sì, posseduta perché hai sborsato 200.000 sterline, giusto? Sì, 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 che non avevo, peraltro, di fatti dopo poi si può renderlo. Perché io faccio le cose di istinto. Cioè, io non passo neanche attraverso il sogno. Cioè, io ho un istinto e lo realizzo. non importa se ci sono i soldi o non ci sono i soldi, se la rete me lo permette o non me lo permette. Quando tornai da Cuba con l'intervista di Diora Fidel Castro e mi disse che non interessava a nessuno, ho deciso che avrei continuato a fare televisione senza andare in televisione. E quindi, cosa che ho fatto, mi sono inventato il DVD. Io non ho tempo di sognare perché il sogno io lo realizzo immediatamente. Cioè, non fa neanche tempo di diventare sogno. Ah, magari! Io dico, ok, facciamo. e sono tutto concentrato a fare. Certo, è incredibile quello che è accaduto perché io che il primo disco, diciamo, i primi dischi erano i Cream, Rolling Stone, eccetera, o i Beatles aver intervistato Keith Reacher, Mick Jagger, Paul McCartney, George Harrison, Rico Star, che ne so, tutti questi. Tu dici, hai coronato un sogno? No, perché io non lo sognavo. Quindi, per me, i sogni non esistono. Perché i sogni sono desideri, come canta la canzone, no? Io non lo desideravo. Cioè, era talmente lontano e impossibile che non era neppure un sogno. Ma in Italia che andava, in Italia andava forte, per esempio, Morandi, Raffaella Carrà, che tu hai conosciuto e con cui hai lavorato, in una regione come a Bologna, fra Tortellini e Lasagne, era possibile cercare di importare anche quella cultura punk che invece andava forte in altri paesi. Cioè, l'Italia alla fine è sempre rimasta ancorata a un'idea di provincia, a un sogno di provincia. Ve lo dico senza nessun... Ma sai, il punk ha cambiato la mia vita, perché nel 1976 esplode il punk e io inizio a fare le radio libere ed è stato un atteggiamento sempre così. Cioè, qual era l'atteggiamento del punk? L'atteggiamento del punk era i gruppi musicali come sono? Yes, Genesis, hanno delle megastrutture enormi, incostosissime, non posso mai pensare di poter suonare. Il punk no, dice, io prendo una chitarra, attacco un amplificatore del Kaiser, ho un microfono che gracchia, non so cantare, non so suonare, ma faccio one, two, three, four e parto. E soprattutto il punk ha rivoluzionato il mondo del giornalismo con le fanzine e io feci la mia fanzina, Retronis Bazar, quindi ho iniziato il giornalismo con un atteggiamento punk. Devo dire che la vita non mi ha cambiato, non mi hanno cambiato le difficoltà, non mi hanno cambiato le delusioni, non mi hanno cambiato i boicottaggi, io mantengo sempre questo mio atteggiamento punk, cioè io sono un punk e lo sono sempre. Esatto. Dai, l'eremita, questa volta facciamo un tre, uno, due, tre e andiamo sullo specchio che è una casella che forse capita ad hoc perché io ho detto, ho parlato di Gabriele Anzaloni però tu ti sei specchiato in un nome d'arte che è Red Ronny. Adesso io ti propongo di vedere qualche immagine, spero tu riesca a vederla, qualche immagine dove ci sono i motori che rombano e c'è una canzone che sicuramente conosci. Sentiamo un attimo poetico e buon. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di figli, voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestirsi qui, voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai, voglio una vita la voglio piena di guai e poi si troveremo come ne sta a bere del rischio Roxy Bar, forse non ce la farei più a sentirla quella canzone perché ogni giornalista ti sottopone questa cosa, io magari non lo voglio fare, però abbiamo visto un pilota di Formula 1 e a casa uno potrà dire al di là della passione degli emiliani, dei romagnoli, via Maranello, diciamo in generale, ai motori, perché Gabriele Ansaloni è diventato Red Ronny? Perché nel 1977 a Bologna ci fu un casino, uccisero lo studente lo russo, io avevo una radio con Francesco Guccini, Lucio Dalle e Bonvi, Guccini e Dalla decisero di chiudere la radio perché non sapevano cosa dire, era un periodo assurdo e allora io e Bonvi facevamo delle cose, trasmittavamo per Radio Lice e la polizia cercava questo Gabriele che ero io, e loro eravano proprio seduti a Roxy Bar e Bonvi mi disse, sotto le due torri, Bonvi mi disse devi cambiare nome perché è la polizia di cerca e io dissi, Red Ronny va bene, lui disse fa schifo ma un nome vale l'altro e mi chiamai Red Ronny, Red perché avevo i capelli rossi e Ronny per Ronny Petterson. Io sono stato un grande appassionato di macchine come tutti quelli che vivono i bar di provincia, andavo a vedere i Gran Premi di Formula 1 dappertutto e il mio pilota preferito era Ronny Petterson, un pilota nel quale io mi identificavo inconsciamente ma che poi nella vita mi sarei identificato ancora di più perché Ronny Petterson era il pilota più veloce ma i contratti che faceva facevano sì che lui dovesse far vincere Fittipaldi il mondiale quando l'avrebbe vinto lui, Andretti il mondiale quando l'avrebbe vinto lui. pensa che lì abbiamo visto anche una foto di Ronny Petterson con la marge, con la macchina rossa era in coppia con Nicky Lauda e lui lo batteva sempre quindi Ronny Petterson era più forte di Nicky Lauda. Ecco io sono un po' così perché se tu pensi che io pur essendo riconosciuto tu fai tanti elogi ti ringrazio ma io non ho un programma televisivo dal 2001 quindi io non ho non sono bravo a farmi i contratti ho la mia televisione Red Ronny TV però non ho non ho un programma quindi alla fine poi sai dopo ho avuto l'occasione anche di conoscere Senna e devo dirti che Ronny Petterson e Senna sono stati due più grandi piloti che aveva avuto la Formula 1 con la morte il primo maggio a Imola di Senna per me è morta la Formula 1. E Petterson è morto a Monza nel 78 forse quindi gli boicottarono la macchina perché per non farlo vincere siccome doveva vincere perché poi dopo la fine la gente non lo sa che dietro anche allo sport ci sono dei giochi cioè la Lotus voleva vendere automobili in America e allora ha preso Andretti come pilota chiaramente Andretti doveva vincere perché se vinceva la Lotus vendeva più macchine in America e allora per boicottare Petterson che era il suo compagno di squadra ma che vinceva sempre gli faceva delle cose cioè gli faceva fare le prove con il pieno di benzina e nonostante questo faceva poi il position e quindi a Monza siccome aveva paura perché in Austria aveva vinto Petterson e mi aveva anche detto se vinco in Austria poi smetto di seguire gli ordini di scuderia aveva vinto in Austria perché Andretti era andato fuori strada e allora a Monza gli hanno boicottato la macchina tanto perché lui è partito ma poi gliel'hanno ulteriormente boicottata e la macchina non andava e ha innescato un incidente lui stesso dove lui è rimasto coinvolto e povero Petterson un eterno secondo nonostante abbia vinto dei gran premi e non ha avuto la canzone che Dalla ha cantato invece a Senna una canzone meravigliosa il mio nome è Ayrton e faccio il pilota canzone meravigliosa giusto Red è una bella canzone quella che ha fatto Lucio Dalla ha sempre fatto delle cose belle dove stai andando? Sto andando abbiamo parlato di motori adesso finiamo invece su un altro mezzo di locomazione che è una locomotiva cantata da Guccini questa la locomotiva ovviamente e siamo sulla stazione ferroviaria anche cantata da Sì vedo io vedo Red che un riflesso delle tue finestre la campagna che deve avere fuori casa deve essere bellissima lo vedo riflesso sui tuoi occhiali ogni tanto se tu guardi fuori la finestra vedo un po' di campagna ma la lasci quella campagna ogni tanto ti piace viaggiare sei un viaggiatore Sì io ho viaggiato tanto ho viaggiato tanto però però sono molto legato al nido io mi hanno detto io non mi intendo di astrologia che sono sagittario con ascendente cancro il sagittario va all'avventura il cancro ama la creatività e il nido quindi amo molto il nido rinchiudemi nel nido sono anche molto animale che si rintana hai capito io non piango mai mi risolvo tutto da solo mi rintano sto zitto eccetera certo che viaggio il treno il treno mi piace molto ultimamente lo sto usando tantissimo il treno perché è diventato impossibile girare in automobile e quindi uso moltissimo il treno mi rilassa mi faccio i giochini uso sempre il treno per pulire l'iPhone il telefonino tra tutte le foto che non uso più per pulire un po' oppure per leggere il treno mi fa impazzire ho fatto anche dei viaggi lunghi in treno sono andato una volta quando ero ragazzo andavo a Londra in treno passando il Dover passando la manica proprio sul battello non come adesso che si va sotto perché siccome andavo là e mi riempivo di 45 giri di rompline gli tagli pesantissimi in aereo non me ne avrebbero fatti imbarcare e quindi io andavo in treno e per me era bellissimo fare questo viaggio lungo in treno tu hai parlato di nido noi abbiamo anche una casella tra l'altro il nido d'amore amore è una canzone è una parola che è citatissima non solo con le rime sanremesi amore cuore ma ci sono state canzoni meravigliose cantate sull'amore anche a Sanremo nel tuo nido c'è una moglie una compagna e due figlie loro ti hanno sempre supportato in quello che hai fatto e nelle tue scelte sì i figli sono un po' costretti a supportare i padri molte critiche ho avuto però vedi ti faccio vedere una cosa che io tengo sempre qui davanti questo disegno che mi fece mia figlia da piccola che disse non so che vita da cane fai perché mi vedeva sempre al telefono e quindi lei mi fece questo disegno per me me lo ricordo perché hanno sempre visto le mie figlie l'impegno che io ci ho messo poi è chiaro avendo due figlie femmine tu ne dovrai sapere qualcosa due figlie femmine è un casino perché le figlie femmine non è come i figli maschi le femmine il padre lo vogliono gestire hai capito quindi non si fanno certo comandare molto e quindi le devi anche lasciare libere di volare di fare quello che vogliono e che strada hanno scelto loro nella vita per un periodo hanno collaborato anche con me poi poi hanno scelto altre strade una si occupa di internet e un'altra dopo che ha lavorato come assistente in un negozio di dentisti improvvisamente un giorno ha comunicato a me e a mia moglie che aveva comprato un negozio di profumeria biologica a San Giovanni in perciceto e quindi non è che ha detto penserei ho voglia di licenziarmi o voglia di intraprendere no mi sono già licenziata ho già preso il negozio aprirò il giorno tal dei tali e notare che noi nel frattempo non è che non ci frequentassimo hai capito però non ha detto niente lei si è tenuta tutta per sé e ha andato avanti per la sua strada noi non possiamo più andare avanti per la nostra strada perché siamo giunti alla conclusione però faccio un ultimo lancio per vedere dove finiamo guarda che bella casella finiamo sui giochi qui siamo il gioco del mondo sembra fatta apposta questo è un gioco che va a caso ma non sempre allora dobbiamo chiudere dobbiamo chiudere in poche parole non gioco mai per me la vita è una missione abbiamo scelto prima di nascere il nostro compito e dobbiamo svolgerlo quindi qui non si gioca il gioco del mondo come chiami il tuo programma è quello di fare il compito per il quale sei stato scelto Redroni grazie di cuore per essere stato con noi e per averci aperto uno spicchio della sua casa e del suo mondo e grazie anche a voi per averlo seguito ci vediamo la settimana prossima buona serata